Il cinema come mezzo per diffondere la cultura della cittadinanza europea. La provincia di Piacenza partecipa al progetto IEC, Young European Citizen, interamente finanziato dall'Unione Europea. Sono 400 gli studenti coinvolti nei comuni di Bobbio, Cadeo, Borgonove e Ponte Nure. L'iniziativa si inserisce perfettamente nel contesto del progetto cinematografico avviato quasi 20 anni fa da Marco Bellocchio a Bobbio. I ragazzi delle scuole parteciperanno a specifici workshop e i giovani tra i 18 e i 35 anni potranno partecipare al bando per la scuola di regia a fare cinema che anche quest'anno avrà un docente d'eccezione. Il docente quest'anno sarà Sergio Rubini con cui è venuto già la scorsa estate a presentare il suo ultimo film e che in quell'ambito è rimasto stregato dalla situazione bombienese e dato che il direttore artistico del Bobbio Film Festival, il docente, l'ideatore, l'inventore, il padre di Bobbio cinematografica che è Marco Bellocchio quest'anno farà il suo film a Bobbio e quindi non avrà il tempo di seguire con la dovuta attenzione e le dovute energie tutte e due le cose abbiamo scelto io e Marco di proporre a Sergio di fare la docenza e lui è stato molto felice di accettare di fare il docente del primo corso IEC a fare cinema a Bobbio. Sergio Rubini dirigerà un cortometraggio e i ragazzi selezionati potranno partecipare a tutte le fasi di costruzione e di realizzazione di questo lavoro filmico quindi dal soggetto alla sceneggiatura alle riprese e questo alla fine questo cortometraggio questo lavoro verrà presentato alla presenza di tutti i ragazzi non solo alle scuole del territorio e con dei workshop ai ragazzi del territorio ma in due sedi prestigiose e cioè a Roma e a Bruxelles. I ragazzi avranno due tipi di opportunità ci saranno alcuni che parteciperanno direttamente al corso che farà il maestro Bellocchio altri invece quelli principalmente del territorio saranno coinvolti in workshop e in più avremo anche la possibilità daremo a questi ragazzi la possibilità di comunque di partecipare non in modo diretto ma comunque di poter assistere anche all'eventuale corso che farà il maestro Bellocchio quindi coinvolgeremo un sacco di ragazzi. Anche il Bobbio Film Festival sarà traslato da fine luglio a metà agosto. Ritengo positivo anche questo perché sarà un modo per allungare la stagione turistica di Bobbio.